sanpei il ragazzo pescatore se c'è un'opera che probabilmente più di tutte mi viene in mente in questo periodo di estate è proprio quello che noi chiamavamo un tempo sanpei con la m forse per evitare l'effetto sanpei l'adattamento italiano prese questa scelta attraverso le reti private si diffuse la trasposizione animata di quest'opera di takao yaguchi e andò benissimo ancora oggi ben ricordata con una sigla bellissima dei rocking horse ma era uno di quei casi in cui si ci ricordiamo ancora oggi la sigla ma c'era anche un bellissimo cartone di cui noi godevamo cartone che in questo periodo come ho detto mi viene in mente più di altri probabilmente perché era uno di quelli più estivi in assoluto anche nel tipo di atmosfera che si respirava non era tutto ambientato di estate però sanpei andava in giro con la sua canna da pesca andava in giro a volte anche in barca in effetti anche in navi o comunque barche piuttosto grandi però l'aria che si respirava bellissima che ci faceva anche conoscere un certo tipo di cultura giapponese un certo tipo di giappone perché sanpei è un ragazzo semplicissimo è un ragazzo neanche direi come tutti perché in quegli anni in effetti si poteva già raccontare un ragazzo di città invece lui era un ragazzo di paesi paesi neanche di periferia proprio quindi si raccontava un giappone molto diverso da quello che noi vedevamo da altre parti sembrava quasi un giappone antico ma non lo era perché poi in realtà vedevamo appunto queste navi moderne vedevamo a volte anche delle competizioni moderne dove quindi si vedevano anche altri aspetti di altre società perché lui poi si è confrontato a volte anche con altri paesi all'interno delle sue storie e delle sue avventure quindi un giappone tradizionale con fiumi con ruscelli con pesci che noi conoscevamo di cui non conoscevamo assolutamente l'esistenza pesci a volte straordinari pesce pesci a volte però invece normalissimi e questo è quello che raccontava sanpeio sempre adorato questo questa atmosfera che veniva proprio fuori dalle sue storie ed è quella che già si può comunque rileggere e catturare come noi dei pescatori che leggiamo le opere e che scegliamo quale pescare cercare di avere di fare abboccare al nostro amo sicuramente questo sanpeio ragazzo pescatore edito da star comics in questa versione che raccoglie il secondo ciclo del manga perché la prima parte del manga molto più lunga che andò avanti dal 73 all'83 poi a un certo punto si concluse invece poi l'autore ritorna anni dopo sull'opera e sui personaggi esattamente come li aveva lasciati perché comunque non c'è un sanpei cresciuto ed è come l'edizione giapponese in 12 volumi quindi questa sarà una serie in 12 volumi in questi 12 bellissimi tra l'altro volumi questo primo volume già a questa copertina con questa sorta di effetto squame i disegni e la narrazione di yaguchi purtroppo scomparso da relativamente molto poco una delle punte massime di quello che è il manga tradizionale ma che comunque risulta sempre piuttosto moderno nel segno e nel tipo di approccio in fondo è sempre una storia di sfida contro se stessi un'avventura alla ricerca di una sorpresa di qualcosa che però nel caso di sanpei si risolve sempre in una sorpresa non fantastica in maniera assoluta è sempre qualcosa che noi sentiamo che potremmo raggiungere noi stessi io avevo voglia di pescare guardando sanpei devo dire che ho anche dei bei ricordi proprio con mio padre perché ci provai certo fallivo miseramente sanpei dotatissimo in questo sport che poi più che sport nel suo caso è proprio una passione intesa in senso assoluto così butta un amo e praticamente pesca qualsiasi cosa quindi sa benissimo come far muovere la lenza come far 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 muovere io mi ricordo che andava a cercarmi nei negozi cercavo di comprare le cose giuste però fallivo fallivo comunque e mi emozionavo ogni volta che sanpei pescava non soltanto i pesci quelli grandi e straordinari quelli importanti dei grandi cicli ma anche le normalissime sequenze in cui lui saltava così di scoglio in scoglio e riusciva a pescare qualcosa in questo primo numero di questo secondo ciclo di sanpei abbiamo una storia di questo tipo quindi con lui alla ricerca di un pesce addirittura creduto estinto non vi dico come va avanti però si chiude questa prima storia all'interno già di questo primo numero e si chiude sempre con questo sense of wonder fantastico che ci offre yaguchi con dei disegni bellissimi con spesso delle doppie pagine con vignette orizzontali molto lunghe di cui lui è davvero un maestro enorme con questa narrazione leggera a volte volutamente quasi documentaristica perché ci spiega un sacco di cose un sacco di cose che non riguardano solo come ho detto prima la tradizione giapponese ma anche la materia di che si sta trattando cioè la pesca quindi i pesci quasi con una radice scientifica ma mai intesa in maniera pesante è difficile quindi da da leggere invece tutto molto scorrevole però chiaro che quando poi entra in scena l'azione vera e propria c'è quel momento in cui sanpei deve andare alla ricerca di quel pesce deve andare a pescare davvero esplode la narrazione in maniera esaggiata fra l'altro yaguchi grandissimo narratore e anche autore di quella che è una delle opere più belle secondo me mai fatte al mondo cioè tezuka secondo me che uscì tanti anni fa che se avete voglia potete cercare per recuperare lui racconta il suo amore per il fumetto racconta il amore per osamu tezuka di come lui è iniziato a fare fumetti leggendo i fumetti di osamu tezuka e con questo grandissimo amore per il fumetto che traspare che esce fuori e ogni volta che io leggo qualcosa di suo percepisco sempre questo grande amore proprio è un discorso di empatia forse perché anche io faccio fumetti ma sono abbastanza sicuro che ognuno di voi leggendo le storie di sanpei di yaguchi percepirà questo tipo di sensazione questo tipo di entusiasmo che lui riesce a trasmettere secondo me benissimo 12 volumi ripeto sarà questa serie edita star comics ogni volume con questo effetto squamato bellissimo in copertina ringrazio star comics per avermi inviato questo primo numero voluto fortemente da me proprio perché amo moltissimo l'autore quindi non posso fare altro che consigliarvelo e viva e viva e viva Grazie a tutti.